L'Agenzia Italiana del Farmaco e l'Istituto Superiore di Sanità hanno deciso di proporre la sperimentazione della plasma terapia contro il Covid-19 condotta nell'azienda ospedaliero universitaria di Pisa su tutto il territorio nazionale. La terapia in questione viene messa in atto utilizzando siero iperimmune prelevato da donatori convalescenti di Covid-19 ed è stata messa a punto nel reparto dei malattie infettive diretto dal professor Francesco Menichetti. Il protocollo toscano denominato Tsunami aveva già raccolto l'adesione delle regioni Lazio, Campania, Marche ed Umbria oltre che della sanità militare e ora è stato scelto quale modello metodologico di riferimento per il nuovo studio. Il professor Menichetti si è dichiarato orgoglioso della scelta operata dalle istituzioni sanitarie nazionali che conferma la qualità della ricerca scientifica in Toscana. L'arruolamento dei primi pazienti guariti che si erano resi disponibili per la donazione di plasma è partito l'11 aprile scorso, un mese fa.